Nonostante Antonella Clerici abbia cercato quest'anno di rendere più blando il suo Ti lascio una canzone e trasformarla da spietata baby gara in una sfida fra canzoni, i genitori continuano a considerarla diseducativa. Questo è quanto si apprende dal sito AYART, Associazione Italiana Ascoltatori Radio e Telespettatori. Il presidente della ONLUS, Luca Borgomeo, scrive Riceviamo ancora proteste per Ti lascio una canzone. Riteniamo fondate le preoccupazioni di tanti genitori per una trasmissione diseducativa che utilizza i minori spesso adultizzandoli. Chiediamo che la RAI dia notizie su eventuali compensi diretti ed indiretti che i protagonisti, i bambini e i loro genitori ricevono per partecipare ad una trasmissione che andrebbe rivista o forse sospesa. È comprensibile, aggiunge Borgomeo, il disagio di tanti genitori nel vedere sfruttate l'ingenuità ed anche il talento dei minori. impegnati a cantare brani lontani anni luce dal loro mondo per non parlare poi del look delle bambine, del loro patetico, assurdo voler imitare con sguardi languidi e movenze femminili le cantanti grandi. Una TV pubblica dovrebbe essere attenta a questi problemi e farsi carico degli effetti che la partecipazione a questi show può avere sulla formazione e sul futuro di questi bambini.